dall'esterno del Gavis Stadium siamo qui con un tifoso del Napoli si chiama Gianluca Gianluca allora è qui un regalo d'eccezione per Aurelio e Tedo dell'Aurentis assolutamente sì l'anno scorso abbiamo regalato gli orologi in vinile ad Insigne Mertens e un altro grandissimo giocatore del Napoli Cali tu culibali che non c'è più quest'anno abbiamo portato dei pensieri al grandissimo Osimen bellissimo al nostro presidente Aurelio Edoardo dell'Aurentis e poi l'ultimo signori a Spalletti che vorremmo consegnare come abbiamo fatto di consueto l'anno scorso a termine del match ad Alanta-Napoli e questo per il nostro grandissimo mister Spalletti con un ringraziamento grazie mister da tutti i nostri fosi del Napoli grazie forza Napoli forza Napoli sempre ragazzi eh voi ti fossi del Napoli che avete siede di vieta Bergamo giusto io vivo a Bergamo anzi io vivo in provincia di Brescia però lavoriamo ad Orio Center dove vendiamo i nostri orologi che possono acquistare tutti insomma anche anche personalizzabili con Zaramicroc uno stasito internet quando volete signori a disposizione